Benvenuto sul numero per il preascolto delle suonerie sul caso di Monte Carlo, questa è la prima. Mi han dato una casetta piccolina a Montecat, Ferrari ristoranti e tanti fiori di lilla, e tutti i giornalisti che passavano di là, dicevano che è bella la casetta a Montecat. Per averla subito in regalo, manda un sms con scritto Cognato al 48182, questa è invece la seconda. Per averla subito, manda un sms con scritto Monaco al 48182, capito? Se vuoi la prima, manda Cognato al 48182, se vuoi la seconda. Io ho la casa a Montecat, manda a Monaco al 48182, infecosti su www.allyoucan.it. per averla subito. Grazie. Grazie. Grazie.